Buongiorno a tutti, benvenuti a questa edizione di Occhio ai Giornali, la rassegna stampa in diretta tutte le mattine di Fano TV sul canale 17 alle 7 e mezzo del mattino. Ben ritrovati, cominciamo questa nuova settimana con il santo del giorno, oggi è San Policarpo, siamo molto indietro nel tempo, praticamente agli albori della chiesa, all'inizio il sole è sorto alle 6.56 e tramonterà le 17.47, la giornata di oggi si apre con questo squarcio di sereno, in fondo vedete le nuvole verso Pesaro, temperatura decisamente non fredda, 7 gradi e 3, allora vediamo il tempo previsto per oggi, lunedì 23, cielo inizialmente nuvoloso con diminuzione della nuvolosità nella seconda parte della giornata, nella prima invece avremo deboli sparse precipitazioni più probabili nel settore centro-settentrionale, i fenomeni si esauriranno nel corso del pomeriggio in diminuzione le temperature nei valori massimi, i venti sono nord-occidentali per domani, martedì 24 febbraio, avremo cielo parzialmente nuvoloso al mattino con progressivo aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, sempre nel pomeriggio avremo deboli precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, le temperature sono in lieve aumento nei valori massimi, i venti di brezza tese, il mare poco mosso. Per i prossimi giorni avremo probabile tempo perturbato per la discesa di aria fredda, artica, marittima, che darà luogo ad una perturbazione stazionaria, probabile miglioramento solo nel fine settimana. Cominciamo intanto dalla buona notizia che riguarda quella bambina di 12 anni di Saltara che è stata ricoverata al Salesi di Ancona, il caso di meningite di cui vi abbiamo parlato nel telegiornale di sabato, sabato sera. Ebbene, è stata trasferita, dicevo, nel Salesi di Ancona, è ancora in terapia intensiva però sta meglio e questo è quello che riporta anche e riportano i giornali di questa mattina. Intanto in questa fotografia il dirigente scolastico della scuola media di Saltara, Paolo Olivieri. Allora, la 12enne, dicevamo, sta meglio, respira bene ed è sempre vigile, rimane ricoverata in terapia intensiva, i sanitari tendono ad escludere contatti con il caso di Orciano. In fondo, invece, sempre nella pagina del resto del Carlino, invece si parla della tragedia che ha colpito la famiglia di Giulia, in realtà la mamma perché il papà Paolo, un pediatra molto conosciuto nel gennaio 2007, che ha voluto togliersi tragicamente la vita, dicevo, il funerale di Giulia, oggi alle 15 nella chiesa di Montella Bate, Giulia Signoretti, la ragazza di nemmeno 17 anni che è morta giovedì scorso dopo essere caduta da un balcone della sua casa a Morciola di Vallefoglia. Per quanto riguarda le altre pagine del giornale, storie di vite e di morte, dopo due anni di assenza quasi totale, Rosanna Lambertucci è tornata in televisione, lo ha fatto a Verissimo, Canale 5, con Silvia Toffanin per presentare il suo libro E sono Corsa da te, edito dalla Mondadori, dove racconta due anni della sua vita senza il palcoscenico della televisione, passati al fianco del suo ex marito, malato e sofferente, marito Alberto Amodei, pesarese, alto dirigente della RAI, che è morto nel maggio scorso a 71 anni, dopo mesi e mesi di battaglia per la vita. La politica, Foschi in regione Coma d'Urbino, ma il protagonista può essere solo Spacca, il consigliere uscente, intanto cominciamo con le nostre liste civiche. La benedizione di Gasparri, Elisabetta sarà la capolista di Forza Italia, ha detto l'onorevole che nei giorni scorsi è venuto a Fano, pronti ad allearci con l'attuale governatore Spacca. Forza Italia fa propria la lista Gambini, ma dipende da Marche 20 e 20. Questa è l'assemblea affollata che si è svolta nei giorni scorsi, tra l'altro nella didascalia sotto il Carlino scrive Cooperativa Tre Ponti, uno dei luoghi classici di Stefano Guzzi, mentre il luogo scelto da Ceriscioli è quello della sede dove avvinse Matteo Ricci, riunito il comitato per il rascio finale e sulla sanità, dice, troppi impegni disattesi. Ultimi giorni per convincere i pesaresi a votare Luca Ceriscioli alle primarie di coalizione. Domenica si terranno le consultazioni e per questa ultima settimana di campagna elettorale il comitato a sostegno dell'ex sindaco ha organizzato banchetti e assemblee nei vari quartieri. Sempre dal Carlino, il centro di Fano si salva se rimaniamo uniti. Bacchiocchi, titolare del Caffè Aurora, rilancia alcune idee per il commercio, mentre centropagina Comarpesca si draghi subito il porto, domani l'ennesima riunione istituzionale ad Ancona. Mentre sempre per la cronaca, senza esito le ricerche dell'anziana scomparsa, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il canale. Non ci sono novità, anche ieri il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna è sceso a Fano per cercare il corpo della 84enne fanese scomparsa da casa nella notte tra venerdì e sabato. Le ricerche si sono concentrate nuovamente sul porto canale, dove l'anziana da tempo depressa aveva dichiarato l'intenzione di volersi gettare per farla finita. Lo sport con la vittoria schiacciante del Fano contro l'Olimpia agnonese. Mancini di Fano ha travolto la squadra ospite con 4 reti, 4 a 1. Questo è il risultato finale. Fano motore potente, scrive il resto del Carlino. Agnonese travolta al Mancini, assegno i bomber e gli under. Sivilla e Gucci nel primo tempo, Favo e Lorusso nel secondo. È stato tutto facile. Alessandrini e l'allenatore stiamo facendo di tutto. Ha detto per tenere vivo il duello di alta quota. Andrea Sivilla è a quota 11 reti. Si è capito benissimo che non molliamo. E naturalmente questa sera, dopo il Tg, l'appuntamento è potrete rivedere tutti questi gol nella telecronaca dell'integrale a cura di Sergio Catalani. Andiamo sul Corriere Adriatico. A Pesaro i disoccupati crescono ancora. Sono 43 mila. I dati del 2014 elaborati dalla provincia segnalano una riduzione di assunzioni nel quattro trimestre. Nel vecchio Anger, sempre a Pesaro, anche negozi e appartamenti saranno ricavati sul lato di via Viale Marconi per finanziare la ristrutturazione volta a ricavare la doppia funzionalità di Palasport e Auditorium. Previsto un investimento di 3 milioni e 300 mila euro attraverso la società di scopo creata tra Aspes e Pesaro Parcheggi. Poi ancora, dalla pagina di Pesaro e provincia, a centro pagina da Saltara, prevenzione a tappeto, nessun altro caso, l'allarme rientra, i compagni di scuola e di sport augurano alla 12enne una pronta guarigione. E a Orciano invece si prega in memoria del bambino e per la ragazzina. Si prega per Francesco, morto, lo ricorderete, a 10 anni, colpito da meningite fulminanti. Ieri è stata una nuova giornata di preghiera per rivolgere ancora un saluto alla piccola vittima e in segno di solidarietà per quanto accaduto a Saltara. A Fossombrone invece ancora la sanità, l'importante è garantire servizi agli utenti senza costi aggiuntivi. Il PD di Fossombrone replica alle critiche su Montefeltro Salute. Il partito di governo segnala il potenziamento realizzato negli ultimi tempi in ospedale. E poi ancora dal Corriere Adriatico, questa volta la pagina di Fano, un muro romano sotto la piazza. È una delle scoperte fatte dal Centro Studi Vitruviani con il Georadar. Presto nuovi scavi. Il presidente Filippo Bracci, scandalizzato per la cabina dell'Enel, presente sui gradoni dell'antico teatro. Mentre l'Isippo si appella a Berardi, si appella a Vittorio Sgarbi. Alberto Berardi chiede a Sgarbi di scendere in campo nella battaglia che si sta conducendo da anni per far rientrare nel nostro paese la statua greca del giovane atleta attribuita appunto a l'Isippo. Scomparsa, la donna scomparsa, ricerche anche in mare aperto. Nessuna traccia dell'anziana uscita di casa all'alba di sabato in Vestaglia. Il canale Albani per lo strato dai sommozzatori. Il funerale invece di Tonucci dopo l'autopsia. La drammatica morte di Rinaldo Tonucci, 73 anni, per un malore che lo ha colpito mentre guidava la sua auto intorno alle 18 di sabato scorso in Viale Gramsci, nei pressi della caserma Paolini, ha destato commozione in tutta la città, specialmente nel quartiere Poderino dove Tonucci abitava. Apriamo e chiudiamo la rassegna con il messaggero di Pesaro. Primari e scontro sull'ospedale. Due ore di confronto serrato a Porto San Giorgio tra i due candidati del PD alla corsa governatore. Ceriscioli, nosocomio unico la regione ha promesso. Marcolini sono a rischio le condizioni. E il Roff piange Ronconi, anche il Roff di Pesaro piange la scomparsa di Luca Ronconi, un regista che ha segnato la storia del festival. Anche sul messaggero migliore alla ragazzina colpita la sospetta meningite. Il babbo dice, era sicura, reagisce bene ma gioirò solo quando la riporterò a casa, ha detto appunto il papà di questa bambina di 12 anni. Poi ancora fotografie sulle pagine interne del messaggero per quanto riguarda la politica, sanità, tagli e scintille tra Marcolini e Ceriscioli. E poi ancora la sinistra, noi l'alternativa con una nuova proposta. Ancora dalle pagine del messaggero per chiudere. Anche qui, anziana scomparsa, ricerche senza esito, migliore alla ragazzina ricoverata al Salesi. E poi ancora qua, sullo zuccherificio, Conf Commercio, il futuro dopo l'ex zuccherificio. È tutto, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che stasera alle 20.30 è il nostro telegiornale, vi ricordo la nostra applicazione per poter scaricare e per poter vedere tutte le notizie in tempo reale. un'applicazione che oggi è disponibile solo per i cellulari Android, su Google Play e poi il nostro sito internet, occhiolanotizia.it. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti e arrivederci. Grazie per averci seguito.